we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xyuderone daie we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo video io sono xyuder e mamma mia mamma mia ragazzi un bel po di novità davvero super interessanti anche nel video di oggi che riguardano ovviamente i prossimi giorni di fortnite oramai siamo vicini ci sarà posso confermarvi che ci sarà questa settimana il nuovo aggiornamento la nuova patch la 8.4 se ne sa ancora poco ma nel video di oggi vedremo di darvi un po vedrò di darvi un paio di informazioni sul nuovo aggiornamento che prestissimo sarà disponibile per tutti ovviamente la notizia del giorno è le news degli scavi ragazzi quelli che si preannunciano essere il principio di un evento per questa season 8 che a quanto mi risulta potrebbe essere l'unico evento speriamo che sia perlomeno esagerato ma voglio anche parlarvi di quello che purtroppo nel video di ieri non sono riuscito a farvi vedere che è il nuovo deltaplano spoilerato direttamente da epic games in un suo post ve lo farò vedere subito 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 però prima voglio ringraziare tutti quelli che utilizzano ogni giorno il mio codice creator xyuderone quando scioppazzate di prepotenza grazie di cuore ragazzi per il supporto che date al canale mi raccomando iscrivetevi in tantissimi e non dimenticate di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima prima ragazzi la domandina ve la devo fare ve la devo fare ci tengo tantissimo che i vostri commenti li mettiate proprio qui sotto mi raccomando li guardo vi metto i cuoricini è una domanda molto interessante qual è il tuo punto di atterraggio preferito lasciamo perdere che ci si butta in base a come ci si muove con l'autobus ma se doveste scegliere proprio la vostra city preferita il vostro punto preferito quello che vi piace di più qual è il mio ragazzi è è landine raga io landine comincia davvero ad entrarmi seriamente nel cuore lande letali se posso buttarmi a landine mi butto a landine e mi diverto di brutto ditemi qual è il vostro punto di atterraggio preferito qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance finalmente andiamo subito a vedere questo nuovo deltaplano di cui vi ho parlato anche nel video di ieri questa ragazzi che state vedendo intanto vedo che c'è un puntino ecco qua che l'abbiamo tolto quella che state vedendo è un'immagine relativa ad un post pubblicato direttamente da epi games riguardante una nuova isola nella modalità creativa nella piccola anteprima che vediamo si può notare innanzitutto la skin quella falco solare quella che è uscita l'altro ieri ma guardate bene ragazzi non questa skin ma quella ancora più indietro voglio zoomarvela un pochettino cavolo sta quello lì dovrebbe essere il non riesco a capire se sia la skin di ibrido mi sembra senza la forma del drago comunque perdonatemi ma io quel deltaplano non l'ho mai visto potrebbe essere ragazzi uno spoiler di un nuovo deltaplano che sta per arrivare su fortnite io spero che visto così mi sembra la bandiera del giappone potrebbe essere solo un'esclusiva per i giocatori giapponesi non lo so ragazzi però il post era pubblicato ovviamente anche in italiano quindi questo era quello che volevo farvi vedere ieri chissà se questo deltaplano arriverà anche per noi nei prossimi giorni ma andiamo avanti e parliamo finalmente di quello che sta per succedere a sponde del saccheggio ci eravamo lasciati le scavi news ragazzi sono deficiente ci siamo lasciati con questa immagine dove ricordate sicuramente che le scavatrici erano allineate pronte per qualche cosa lì sul bordo di sponde del saccheggio beh ragazzi ecco qua da poche ore cosa è successo guardate tutte le sponde sono state letteralmente accerchiate dalle scavatrici che a questo punto sono davvero pronte per fare qualche cosa ovviamente per scavare non è che voglia ballare la samba nel senso sicuramente ci sarà un grandissimo sito di scavi e quello che immagino io è che ovviamente queste scavatrici scaveranno proprio in centro dove c'è dove sono rimasti i frammenti di kevin quindi del cubo guardate intanto questa serie di immagini piano piano che vanno avanti i giorni le scavatrici si muovono non sarebbe non dovremmo stupirci se per caso nei prossimi giorni prima o subito dopo la patch 8.4 troveremo qualcosa di diverso anche perché ci sono un sacco di tiri intanto questa è una meravigliosa immagine vista dall'alto e guardate l'hanno davvero accerchiato vi ricordate che il sito di scavi quello vicino a sponde del saccheggio a quella placca metallica quella placca metallica dovrebbe è stata anche ragazzi hanno fatto delle misurazioni o non vi sto a portare tutte queste cose perché le ho viste e hanno cercato di capire che sotto quella placca metallica basandosi sull'immagine della schermata di caricamento che ci hanno fatto vedere che ci hanno regalato la settimana scorsa è davvero profondissimo sotto questo almeno è matematicamente quello che gli esperti di questo settore dicono ma guardate arriva anche un tweet io ve lo faccio vedere ma voglio che lo prendete con le pinze non sono molto convinto di questo tweet anche perché è stato detto che è stato pubblicato nella pagina di fortnite ma tolto subito perché non si sa dicono pubblicato in anticipo io ve lo faccio vedere hanno semplicemente scritto soon con la faccia di quello che può tranquillamente essere uno zombie vuoi dire che per caso scavando molti dicono che scavando al centro di sponde del saccheggio verrà riattivato il cubo non so bene sotto quale punto di vista dicano queste cose ma sappiamo che la prima volta che il cubo fu attivato ci furono anche gli zombie quelli appunto che venivano sponati dai frammenti di cubo poi trasformati anche in zombie di ghiaccio non sarebbe sbagliato pensare che uno dei primi eventi che ci auguriamo arrivi il prima possibile dato che mancano meno di 30 giorni alla fine della season numero 8 sia quello appunto degli zombie ma la cosa più interessante che voglio farvi vedere ragazzi è questo guardate un po' mica pro shooter che diamine è questa roba ragazzi questi invece sono stringhe di codice presenti nel codice sorgente di fortnite e guardate un pochettino s cave inner middle e tanti numeri vuol dire che c'è un una cave sarebbe tunnel un tunnel sotterraneo su fortnite non sappiamo dove l'unica cosa che mi viene in mente è che possa essere il tunnel famigerato che parte dal bunker che è ancora presente come sapete benissimo i bunker sono ancora presenti in game qui ci sono l'unica cosa aggiornata in questi giorni appunto l'inserimento di queste stringhe di codice secondo me saranno tutte collegate a ciò che succederà a sponde del saccheggio e ovviamente non vediamo l'ora di saperne di più tra l'altro per quello che riguarda la patch 8.4 questa è una parte di un messaggio scritto da un impiegato di epigames su reddit arriverà leggermente in ritardo si parla al massimo di mercoledì quindi dopo domani domani cioè mercoledì domani perché hanno dei problemi con dei bug audio ci hanno cercato di fixare dei bug audio che non hanno specificato e quindi ritarderanno leggermente la patch quindi ragazzi che dire la buona notizia è che sappiamo che un aggiornamento ci sarà un'altra bella notizia è che potrebbero arrivare anche nuove skin nuovi oggetti e soprattutto potrebbero essere decriptate tutte le sezioni relative all'evento dato che abbiamo scaricato 7 giga di update per la patch 8.30 beh ragazzi io per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 13 in live ciao mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale